La fiera è molto importante, è cresciuta tantissimo negli anni, l'editoria, soprattutto quella dei ragazzi, è in forte crescita. Stiamo investendo tanto come Ministero sia in quello che è la promozione della lettura nei ragazzi e nei bambini, ci sono stati presentati vari progetti rispetto al fondo che è stato stanziato, anche il Comune di Bologna ha partecipato e poi stiamo lavorando sul piano internazionale, infatti saremo ospiti d'onore a Parigi e in tante altre fiere e mostre internazionali che ci porteranno sicuramente a un incremento della crescita, perché voglio ricordare che quando e tutti quelli che hanno partecipato a queste fiere come ospiti d'onore hanno avuto incrementi del 50% anche più delle traduzioni dei propri libri.